Ciao, mi chiamo Hamed e io mi chiamo Ali. Noi siamo i fratelli di Sara. Questo non è un albero normale. Qui negli Emirati, la coltivazione delle palme da datere sale a più di 5.000 anni fa, molto prima che nascesse persino la nonna. Questo albero dà un tocco magico al deserto e all'oceano. I rami servono a costruire barche, nasse, corde e cesti. Di questa pianta si utilizza l'unione. Con i tronchi si costruiscono i ripari e persino fortificazioni. I datteri sono preziosi e i nostri ami proteggevano i loro alberi. Oggi coltiviamo le palme con metodi nuovi. Così ce ne sono per tutti. Vecchi metodi, nuovi metodi. I popoli del deserto e i marinai si cibano di datteri da secoli. I datteri ci mantengono sani. A casa e in viaggio. I datteri si mangiano insieme dopo una lunga giornata di lavoro. I datteri fanno bene al mondo. I datteri la scuola di Groote. I datteri fanno bene al mondo. I datteri fanno bene al mondo. E che è la scuola di ricochia. E che è la scuola di Pag. Ma riente, che è la scuola di rego. La scuola di riusciano è stata a gestionare per ricco. Itteri fanno bene al mondo. E di partenza di riusciano è intenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.